Ciao a tutti ragazzi, bentornati, buon 25 aprile a tutti, spero che possiate trascorrere una buona giornata di festa per chi è a casa e invece una giornata serena comunque per chi invece purtroppo deve lavorare. Io oggi mi autoregalo almeno qualche ora di libertà, alle 14 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Inter-Juventus, partite di Coppa Italia indispensabile ovviamente per il futuro e per la stagione della Juventus. Non andremo ad analizzare queste parole nell'immediato, ne parleremo invece in seconda battuta quindi per un video intorno alle 5 alle 6 oggi pomeriggio con cui andremo a concludere questa giornata appunto segnata in rosso sul calendario. Mi prendo almeno il pranzo libero senza l'ansia di dover correre ad ascoltare le parole di Allegri, poi faremo una sorta di resoconto di quelle che sono le parole più importanti perché poi non avrebbe senso andare a raccontare la conferenza come facciamo di solito dato che passano alcune ore. Oggi credo che sia però indispensabile ragionare su alcune cose che stanno accadendo lato Juve perché notizia del giorno la UEFA potrebbe decidere di sua spontanea volontà se la Juventus l'anno prossimo farà le coppe oppure no perché l'inchiesta sulle plusvalenze sta andando per le lunghe, i tempi tecnici lo sappiamo, sono abbastanza ridicoli nonostante tutto il discorso e la pappardella che ci hanno fatto sulla giustizia sportiva che deve essere celere, che deve essere veloce, deve dare risposte per le squadre, per il mercato, per i tifosi siamo qui con un nulla di fatto, siamo qui che mesi da mesi stiamo lottando contro una classifica che non sappiamo mai quando sarà definitiva se sarà mai definitiva, se queste eventuali penalizzazioni saranno applicate tutte quest'anno, se verranno applicate l'anno prossimo se rovineranno anche un altro campionato, se falseranno pure il prossimo e poi in attesa ovviamente che ci arrivino anche gli avversari quando poi eventualmente vengono restituiti i punti alla Juve perché mi ha fatto abbastanza ridere che si parli di campionato falsato poi, dopo, quando vengono restituiti i punti alla Juve e non prima, hanno ragione a dire che il campionato è falsato, quelli che devono ragionare sulla Corsa Champions hanno ragionissima perché si sono ritrovati a giocare con una classifica che poi non era quella attuale vi ricorda qualcosa? Sì, l'abbiamo fatto anche noi, l'abbiamo fatto da più tempo addirittura e siamo ancora qui nell'incertezza e quando dico rovinato il campionato non dico solo per noi, dico per tutti i tifosi in Italia che non hanno idea di che morte andranno a morire ormai quasi arrivati al punto che non c'è più il merito sportivo c'è il merito giuridico legale, anche se abbiamo visto sono in grado di fare delle porcate abbastanza grandi e quindi, ecco che si apre addirittura la possibilità che se non si deciderà in tempi brevi potrebbe essere la UEFA a decidere se la Juventus andrà in Champions League oppure no, andrà in Europa League, oppure no, andrà in Conference League, oppure no e io non ho mai affrontato questo argomento ma per la prima volta voglio dirvi quella che secondo me è la mia sensazione l'anno prossimo secondo me non giocheremo nessuna Coppa Europea non per un discorso legato alla classifica credo che alla fine si arriverà a un punto in cui sicuramente non giocheremo la Champions sicuramente non giocheremo la Champions nemmeno di fronte a la Juventus che vince l'Europa League secondo me non giocheremo la Champions su Europa League Conference il discorso è un po' più intrigato è un po' più complicato perché si potrebbe in realtà magari andare a giocare una di queste due per decisioni politiche però non mi stupirebbe nemmeno una completa esclusione della Juventus dalle Coppe perché se poi una volta che hanno iniziato a fare la porcata voglio andare fino in fondo la Juventus viene completamente esclusa dalle Coppe Europee quindi secondo me la Champions no cioè proprio non ci sarà modo di andare a giocare né arrivando nelle prime quattro né vincendo l'Europa League in nessun modo secondo me la Champions non la giocheremo e sulle altre due vediamo e dico questo perché sicuramente intorno a Juventus si sta creando un polverone un vero e proprio polverone si sta creando una situazione brutta decisamente brutta e sentivo che stamattina Romeone Agresti parlava finalmente di direttore sportivo dico finalmente tra virgolette perché non è che dovesse parlarne prima lui è che la Juventus ha necessità di intervenire su questa cosa perché post sentenza abbiamo capito che Cherubini rimane inibito e quindi la Juventus non possiede in questo momento un vero e proprio direttore sportivo oggi Romeo diceva che difficilmente secondo lui questa volta la Juventus andrà a fare un'operazione interna di promozione di personaggi che già operavano e orbitavano nell'ambito Juventus come è stato fatto con Paratici e con Cherubini le ultime due volte che abbiamo inserito una figura di questo tipo all'interno dell'organigramma societario ma si guarderà all'esterno i nomi sono sempre gli stessi Giuntoli oppure Massara di cui avevamo parlato anche con Fabiana della Valle lo ricorderete qualche mese fa i nomi sembrano quelli lì poi bisognerà capire quale dei due si riuscirà ad andare a prendere ieri leggevo un'indiscrezione riportata da Scutiero da Giacomo Scutiero che diceva che in questo momento intorno alla Juve si apre addirittura una possibilità di avere Allegri comunque all'interno della Juve l'anno prossimo ma non in panchina a me questa cosa sinceramente non mi stupirebbe non so spiegarvi esattamente quale tipo di ruolo potrebbe andare a prendere all'interno della società quale ruolo dirigenziale qualcuno ieri mi parlava di direttore sportivo ma credo che non ci sia nessuno nessuno meno competente di Allegri da quel punto di vista non perché voglia essere un'offesa ma sicuramente il direttore sportivo che deve fare un lavoro di scouting di un certo tipo non può assolutamente essere individuato in uno come Massimiliano Allegri che ha tutte altre caratteristiche non è quello ovviamente il suo lavoro naturale a maggior ragione insisto dicendo che se davvero la Juventus non andrà a fare le coppe l'anno prossimo non avrà la possibilità di andare a ingaggiare i giocatori più chiacchierati i trend dei giocatori quelli che si fanno un nome all'interno del campionato e tante volte con Allegri in panchina abbiamo visto la società andare a inserire l'interno della rosa quei giocatori Di Bala Pjanic Higuain Dani Alves Quadrado Vlaovic sono tutti giocatori di Maria Pogba tutti giocatori che avevano un nome quando sono arrivati alla Juventus sono arrivati alla Juventus ovviamente in seguito a un confronto con l'allenatore che ha dato il suo benestare perché conosceva quei giocatori perché sono giocatori che si erano già fatti un nome come piace dire ad Allegri lo dice lui stesso giocatori che hanno esperienza giocatori di esperienza quindi vedo difficile Allegri che possa andare a operare poi non so nemmeno se potrebbe iniziare a dire bene ma da oggi sono un direttore sportivo magari ci sono dei corsi delle qualifiche non ne ho idea immagino di sì bene sono un direttore sportivo Leao bisognerebbe prendere Leao siamo buoni tutti no? a fare una roba di questo tipo sappiamo tutti che Leao è un ottimo giocatore ma se la Juventus non farà le coppe quei giocatori lì quei giocatori che hanno nomea diventano difficilmente accessibili come fai a andare a prendere Leao? non ce la fai non ce la faresti nemmeno con le coppe probabilmente a fare un trasferimento simile interno al campionato italiano ad oggi praticamente impossibile appunto quello che dicevamo prima di voi in lontano ricordo di quando la Juventus ancora poteva fare la voce grossa ovviamente grazie al fatto che si era appena ceduto Pogba quindi una plusvalenza vera grossa, reale da oltre 100 milioni come spesso ricorda pure Andrea Agnelli la più grande e vera plusvalenza eseguita dalla Juventus e quindi qual è la strada percorribile? quale potrebbe essere il futuro della Juventus? io vi dico la mia se Allegri non uscirà dalla Juventus per via del contratto per via magari anche della fiducia stessa che ripongono in Allegri per via di motivazioni che sono terminate per via di mille mila motivi che possono esserci e per me potrebbe essere una soluzione interessante Allegri che rimane all'interno della Juventus ma che non fa l'allenatore ripeto non so ancora in quale veste non ne ho più palli da idea però potrebbe essere qualcosa di interessante secondo me e con una Juventus che non parteciperà alle coppe mi immagino una sorta di disposizione in cui magari entra una figura come Alessandro Del Piero per fare una sorta di presidente o vicepresidente onorario per il momento di essere presidente e ovviamente avrebbe anche un ruolo diretto all'interno della squadra magari quel classico collante che ha fatto Nedved anche se da quanto ho capito lo stesso Del Piero in caso di ingresso in Juventus avrebbe avuto voglia di avere un po' più potere magari all'interno della costruzione della squadra quindi quello che fa Maldini al Milan una sorta di figura del genere vediamo magari davvero con Massara che è amico di Allegri perché anche in questo caso se Allegri in questo momento è vero come è vero ha dei grossi poteri all'interno dell'area sportiva come confermato da Elkan non avrebbe senso un allenatore che si sceglie il direttore sportivo che praticamente è il superiore se vogliamo vederlo in una scala gerarchica solitamente è il contrario un direttore sportivo il direttore sportivo sceglie l'allenatore quindi potremmo avere un Allegri figura dirigenziale con un Del Piero e un Massara che lavorano fianco a fianco nel creare la squadra che scelgano un tipo di allenatore che potrebbe essere un allenatore secondo me la Juventus va in direzione Igor Tudor se dovesse esserci un cambio in panchina secondo me sarà quello lì tanti mi chiedono invece tu su chi andresti a me piace tantissimo l'italiano non ne ho mai fatto mistero c'è un altro allenatore che sta venendo su bene che è Dionisi del Sassuolo ma per me l'italiano in questo momento è più pronto la gente mi parla di De Zerbi ragazzi certo De Zerbi lo stiamo vedendo tutti cosa sta facendo in Premier League ma su De Zerbi ci sono due problemi il primo appunto è che è tesserato il secondo sono problemi di natura politica ricorderete tutti quell'esternazioni di De Zerbi contro la Superlega la volontà di non presentarsi a San Siro per giocare contro un club che sosteneva la Superlega se aggiungiamo che magari l'alimentus verrà scusa dalle coppe per via della UEFA quindi una decisione politica se andiamo a prendere uno come De Zerbi che invece si era espresso a favore della UEFA e contro la Superlega capite bene che inizia ad esserci delle frizioni interne pesantissime a livello di proprio pensiero mi stupirebbe devo dire la verità mi stupirebbe perché Juventus in questo momento non mi sembra essere pronta ad abbandonare pubblicamente la Superlega e abbracciare la UEFA a meno che non si ritrovi tra virgolette con le spalle al muro di fronte al ricatto magari della UEFA che ti dice io ti faccio comunque partecipare a patto che tu in pubblico mi vai a dire che quindi sapete bene che queste sono cose che vanno al di là del calcio a me De Zerbi piace e tanto quando si viveva il momento di difficoltà con Allegri in panchina qualcuno mi faceva il nome di De Zerbi e io vi ho sempre detto in corso non lo prendono come De Zerbi perché De Zerbi lo voglio mettere sulla panchina della Juve dal giorno zero voglio che decida lui voglio che abbia tutto il tempo per perché non voglio bruciarlo è un allenatore che ha bisogno di tempo per importare le sue idee l'ha comunque ha fatto benissimo in corsa ma se dovessi scegliere un allenatore per la Juve stile De Zerbi non lo vorrei a stagione in corso vorrei dargli tutto il tempo possibile perché non vorrei cercare di rovinare quello che sono sicuro riuscirebbe a fare perché ha delle potenzialità e ha delle caratteristiche interessantissime e le avevamo viste pure in Italia non lo scopriamo certo con il Brighton in Premier League quindi secondo me questa potrebbe essere una sorta di identikit di allenatore un Tudor un italiano un Dionisi un De Zerbi questi secondo me sono gli identikit che sono allenatori che comunque fanno giocare le squadre anche in modo diverso hanno bisogno del calcio in maniera differente c'è una sola cosa che gli unisce anzi due una che ancora non sono nomi internazionali sono ancora nomi di allenatori che non hanno vinto in carriera e sono quindi alla ricerca di una squadra magari big con un nome per farli vincere secondo battuta sono allenatori che non richiedono il nome non ti richiedono il campione non ti richiedono il giocatore sono allenatori che fanno con quello che hanno e a maggior ragione riescono a valorizzare giocatori giovani non dimentichiamoci quello che ha fatto Vlaovic che è diventato Vlaovic proprio grazie a Vincenzo Italiano come Varascheia che inizio anno chi gli avrebbe dato un euro è stato valorizzato fortemente da Luciano Spalletti secondo me il concetto di valorizzazione del talento in Italia è ancora molto distante perché io ieri ancora sentivo che la gente mi diceva che il Napoli è la rosa migliore di quella della Juve io non sono per niente d'accordo la Juve è la rosa migliore di quella del Napoli semplicemente i giocatori del Napoli in questo momento sono valorizzati da un certo tipo di lavoro annuale perché poi bisogna vedere che Varascheia come si evolverà secondo me molto bene e diventerà un giocatore importante per tanto tempo ma si sta valorizzando il calciatore è al primo anno primo anno di carriera in cui sta facendo vedere delle cose di questo tipo quindi attenzione a dire che il Napoli ha la rosa più forte della Juve perché non vedi che Varascheia fa la differenza certo ma voi siete davvero convinti che Chiesa magari senza l'infortunio o Di Maria o Vlaovic messi nel contesto Napoli al posto di Politano Varascheia Ozyman farebbero decisamente meno così tanto meno come stiano facendo adesso io non ne sono convinto per niente ma decisamente per niente poi ho un mondo bello perché vario però mi immagino così un allenatore in grado di formare formare giocatori di far crescere giocatori e valorizzare calciatori che arrivano dal settore giovanile quindi da l'Under 23 dalla next gen della Juventus o dal mercato scelti da una coppiata che potrebbe essere quella del Piero Massara come è stato Maldini Massara al Milan di Massara avevo già elencato in un altro video tutti i colpi che aveva fatto e la squadra che è stata costruita oggi il Milan di oggi l'ha creato praticamente Massara insieme a Maldini una figura dirigenziale come Massimiliano Allegri e poi in alto vedremo come andrà a svilupparsi il resto della dirigenza però secondo me inizia ad esserci una sorta di scheletro quindi vi dico non so se andrà così non sono notizie non sono conferme però sono ragionamenti ad alta voce che secondo me filano e vanno in una direzione logica e coerente purtroppo circondata dal fatto che secondo me la Juventus l'anno prossimo non farà la Champions che possa essere per ragioni sportive quindi arriva fuori dalle prime quattro o non vince l'Europa League possono essere ragioni legate alla giustizia sportiva italiana quindi punti di penalizzazione per far avere una pena afflittiva non in base al reato bensì in base alla classifica che anche questa se vogliamo è una follia oppure per ragioni politiche legate appunto a questa battaglia che c'è tra Agnelli e Ceferin che potrebbe andare a proiettarsi appunto con un'esclusione delle coppe da parte della Juventus fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti sono sono argomenti scottanti diciamo così sono argomenti scottanti difficili che hanno il campo come focus principale ma che si aprono a miriade di ragionamenti discussioni e soprattutto illazioni nel contorno quindi ricordatevi che non c'è una risposta giusta o una sbagliata anche perché non siamo in grado di prevedere il futuro e non si parla solo di campo è questo il problema quindi non abbiate paura timore a cercare di identificare quello che è però mi immagino qualcosa di questo tipo qua